Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, oggi sono qui con un nuovissimo video riguardante una nuova trattativa di calcio mercato che riguarda il nostro amato Lecce. Prima di parlarne però, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Allora, dopo le dichiarazioni di questi giorni di Mr. Baroni nei riguardi una forma fisica un po' incerta di Gianluca Frabotta, la sua città è subito a corso dei ripari e ha preso Giuseppe Pezzella, terzino sinistro, classe 1997, di attuale proprietà del Parma. Arriva da noi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Che dire, sono molto contento di questo acquisto perché il giocatore, nonostante la sua giovane età, solo 24 anni, ha già tanta esperienza in ambito nazionale e internazionale. Perché nella sua carriera fin ad ora ha disputato quasi 200 presenze con 5 gole e 10 assist, ma di queste presenze ben 111 sono state disputate nel massimo campionato italiano. Quindi è un giocatore che mastica tantissimo la Serie A e secondo me è un profilo perfetto per una neopromossa come noi. Non solo, perché ha disputato anche 7 partite nelle competizioni europee con la maglia dell'Atalanta, 4 in Europa League e 3 in Champions League per l'esattezza. Ora, questo acquisto sicuramente chiude definitivamente il calcio mercato in difesa. Vediamo se Giuseppe Pezzella arriverà e farà subito il titolare contro l'Empoli. Sicuramente vedendo il valore del calciatore per nulla togliere il lavoro che sta svolgendo Gallo, che è chiaramente un esordiente in Serie A e ci vorrà un po' di tempo per vederlo magari al 100% delle sue potenzialità. Però sicuramente Pezzella è un profilo più di esperienza e quindi potrebbe essere lui subito il titolare. Oggi arriva anche un TD a Lecce, sono molto contento sperando sempre che la forma fisica sia dalla sua parte e possa essere con noi in campo subito. Come ultimi colpi virerei magari su un centrocampista di esperienza o magari una punta di esperienza o una esterna d'attacco. Noi ci sentiamo nel prossimo video, forza Lecce sempre e ciao a tutti!